Allora, Venanzio Marzili, padron di Lungoltevere Roma. Oggi è una giornata speciale, tutta per i bambini. Assolutamente, è voluta e sognata tutto l'inverno insieme alla Cicogna Frettolosa, l'altra associazione che collabora con noi. La Velador organizza l'intera manifestazione di Lungoltevere Roma, ma noi insieme a loro facciamo ogni anno questa festa delle premature. E quest'anno abbiamo scelto di fare il Tornado di Bigliardino che, come vediamo, ha un buon successo, l'interazione fra genitori e figli, fantastico. Ma è una gara vera, perché io vedo premi. Esatto, infatti con me è arrivata la targa che sarà data agli ospiti VIP che abbiamo e ai vincitori. Abbiamo fatto questa targa quest'anno proprio per ricordare sia l'impegno che la manifestazione Nelungoltevere Roma mette per questa battaglia, per questa sfida, e sia l'impegno della Cicogna Frettolosa che è importantissimo perché salvano delle vite. Certo, e ci sono anche degli attori stasera da Branciamore, Vannoli, dei Braccialetti Rossi, quindi tutti super impegnati per la causa. Sì, meno male che li sei tu, perché io ce ne sono tanti, non ricordo bene tutti i nomi, però sono contento che abbiano aderito e sono chiaramente venuti tutti qui per stare insieme a noi, hanno amato questa iniziativa, il Bigliardino è piaciuto subito, quindi sì, sono venuti e speriamo di raccogliere i più fondi possibili per la Cicogna Frettolosa e per fare bene i fratelli. Grazie mille.